Se lei vuole andare, puoi andare. Ecco il besetto. Ma questa è la guerra con loro. E la Chokmah, abbiamo detto, la Chokmah, tu guarda che abbiamo detto che è finita la nevoa, giusto? Ed è iniziata la filosofia e tutta l'intelligenza della Grecia. Se tu vedi, fino a quando non c'è stata l'intelligenza della Grecia, non abbiamo avuto il Talmud, non abbiamo avuto libri. Non abbiamo libri di prima, di quel periodo. Perché? Perché non era quella la guerra. La guerra non era combattere con tutte le Chokmah, vuol dire le sapienze esterne. Da quando è arrivata la sapienza esterna, allora hanno iniziato ad esserci l'Agmah, Talmud, Talmud, Roshani, Rishonim, Akroinim, Tutto quello è venuto parte da là, da Yavan, che arriva fino ai giorni d'oggi. Perché si vede ancora tutte le intelligenze, le filosofie, i modi di pensare che sono esterni, ad oggi combattono con noi. Abbiamo detto, cosa vuol dire sapienza esterna e sapienza interna? Perché la Torah si chokmah pnimi, vuol dire interna. Che la Chokmah pnimi ti cambia. Adesso vieni al Shihur Torah, torni a casa, baci tua moglie, ti voglio bene, sei cambiato. Invece le Chokmah pnimi esterne non ti cambiano mai. Ma uno può essere filosofo, avere quattro dottorati e può comportarsi come un animale. Può avere l'età avot, come dicono tutti questi posti di scambisti, robbi, ascemi azor. Un po' avvocati, professori, giudici. Uno ha studiato per essere giudici tutta la vita e alla fine va, alla fine lo vedi che magari lo traina una e lui ha con una palla in bocca e lo frusta. E dici mamma dove vai? Hai studiato per arrivare a una roba di gente? A noi un daiano, uno zaddic enorme, no? I daianimi, i giudici, sono degli zaddichim da paura. Non sembra come se venisse, cioè, è anche Kadosh Baruch Hu che ci ha messo nelle condizioni di studiare quello che c'è all'esterno e quello che c'è all'interno. Per cui, non vanno coniugate le due cose in qualche maniera. Se riesci a coniugarle, ci sono delle materie che sono proprio il, come si dice, tamzit. L'estratto. L'estratto che è difficilissimo trovare lì dentro Kadosh Baruch Hu. Cosa vuol dire? Per esempio, la filosofia, Rabbi Lachman dice di non toccare proprio i libri, ma neanche i libri ebraici che parlano di filosofia, che rispondono alle domande di filosofia. Non parlare, perché dice addirittura anche Morene Burkhim del Rambam, di non leggerlo, Lama, perché oggi Rambam può essere che risponde, ieri ha risposto a delle domande della filosofia, oggi Yetzirah è diventato più grosso, ma le stesse risposte che andavano bene vent'anni fa non vanno bene oggi. D'accordo? Quindi, come si dice, e non entrare in quelle domande. La medicina, come si dice, è una chokhmà. E' vero che sono cose che già sono nella Torah, per cui se uno potesse leggere con gli occhi giusti... Guarda, noi abbiamo Baruch Hashem Zakhino, come si dice l'altro giorno, che anche quello che studiamo sia l'elunishmat di Vittorio ben Ernesta, che è il papà di Gadiel, non so se lo conosci, che è un biologo. Anche lui mi ha detto, Edo, dopo veramente ho capito che ha colletto va, adesso ha perso il papà e tutto, però ho capito che ha colletto va, ha colmishamai, un biologo, lui mi dice, Edo, te lo dico da biologo. Biologo, è tutto questo, è arrivato a questa conclusione, chi riesce a trovare Hashem nella fisica, nella matematica, Meule. Se noi, quello è il lavoro che devi fare, però tu capisci che se la fisica ti dice, se tu ghiacci l'acqua, va giù, va su, scusa, va a galla, giusto? L'acqua, se la ghiacci va a galla, allora tu dici, ok, questa è la natura del mondo. E' lui che ha scelto che l'acqua, a differenza di tutti gli altri liquidi, che quando diventano solidi vanno giù, ha fatto un miracolo con l'acqua, che il solido va su. E' un presupposto necessario per qualunque cosa facciamo. Che è, ma non è facile, perché se tu vedi quelli che vanno più contro la emunà, sono i dottori, i licenziati, e ti dicono, no, l'uomo viene dalla scimmia. L'uomo viene dalla scimmia, il compagno della terra si è formato da un Big Bang stellare. Però è vero, nel senso, è innegabile. Il problema qual è? Hanno scritto un libro anche bellissimo, sembra che... Che cosa ha scritto? È vero che c'è stato il Big Bang, basta capire che tutto è avvenuto, che è stato Katoš Baruku che ha creato questa condizione qui. E no, ma va contro la scienza se tolgo. No, è proprio questo, è stato dimostrato, è stato dimostrato, c'è un libro specifico di tutte queste cose, anche quando Moshe apre le acque, è tutto spiegato, sia dalla scienza... È una grande svolta, dici tu. No, non è una grande svolta, lì. No, lì non parla. Lì, il blu, non ricordo però, sono a casa comunque, te lo porto, e ti spiega. Prima viene la Torah che ti dà semplicemente la formula così, che è quasi incomprensibile per chi non la sa leggere, perché io personalmente non la so leggere, perché non so scendere nei particolari. La scienza è venuta dopo, ha spiegato delle cose che nella Torah già erano presenti sempre. Sì, ma tu calcola, la scienza negli ultimi 60-100 anni ha iniziato a svilupparsi sempre di più. Cioè, è una storia di nidà, scusate, nidà, che noi abbiamo capito oggi che l'uomo e la donna stanno lontani 15 giorni, fa bene al rapporto, la psicologia ci è arrivata negli anni 70, negli anni 80, la natura c'è scritto... Che anche nella medicina dici anche che le donne che tengono la nidà, per esempio, hanno meno cancri all'utero. Anche la milà, 14.000 batteri che vengono espulsi, che portano malattie. Allora è stato semplicemente a fare la milà e hai sotto il problema. Ok, però capisci che anche queste spiegazioni sono spiegazioni... Allora uno, come un ragazzo, mi diceva, no, io faccio la milà perché nella medicina dicono che hai meno possibilità, mio figlio avrà meno possibilità di prendere le malattie. Perché? Arsha, se è una conseguenza della milà, ma noi non facciamo per quel motivo la milà. No, certo che no. Però un professore ti può dire, ah, la facevano per quella... Ah, non mangiavano maiale perché ai tempi non c'erano i frigoriferi e i maiali portavano le malattie. Non è per quel motivo che noi non mangiamo maiali. Non viene utilizzata come sempre, cioè, nelle nostre amati... È quello che ti spiego, chi vede la Torah. Quindi chi vede la Torah come una chokhmà esterna che non lo cambia dentro, allora, come si dice, anche chi studia le altre chokhmà... Fina a se stessa in qualche maniera. Sì, studiano, come studiano qua in università, studiano la gmarà, chi studia avvocato studiano delle gmarot che parlano di soldi, di diritto, di diritto. Va bene, è una roba esterna, non gli cambia niente. Il lavoro, quello che noi dobbiamo fare, prende la Torah che ci cambia dentro. Infatti c'era una storia che abbiamo detto l'altro giorno, non so se era... Dicevano di Platone, che lui ha preso, non so se... Dicevano una gallina, un coniglio. Vabbè, comunque ha fatto un shiur lui, poi è tornato a casa e si mangiava come un animale questo coniglio. Gli ha detto, cosa fai? Gli ha detto, sì, in shiur, a scuola si insegna una roba, a casa fai quello che vuoi. Se tu vedi, chi ha studiato storie dell'arte? Tutti i greci erano dei maiali allucinanti, facevano delle robe, riti, ascemi asò, mamash. Ma anche l'omosessualità Leonardo da Vinci, che tanto hanno musei in tutto il mondo, aveva le... Cioè, se era qua magari lo beccava il gay pride, capito? Non è... Cioè, è conosciuto, c'era proprio un lancellotto a fianco, capito? Studiava ebraico, sapeva ebraico. Ma anche i bambini, i bambini che venivano presi a sette anni, ha scritto una filosofia. A sette anni e diventavano i concubini della guerra. E quindi ti dico, è proprio come si dice, arrivare a prendere le poch-mot che non ti cambiano dentro. Invece la Torah, Baruch Hashem, piano piano più uno lo studia, Baruch Hashem chi vive qua lo vede, vedi i ragazzi che iniziano a studiare, pian piano cambiano, 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 poco alla volta, poco alla volta, poco alla... Vedi, ti pa, ti pa, goccia dopo goccia. Vabbè, la persona diventa una persona vera, aveva un bel adano. Pito, non ruba. C'è un ragazzo, come si dice, che ho conosciuto, ci va. Mi ha raccontato una storia di come lui è tornato, che ha fatto dopo che è tornato a Beccivà. Ha iniziato a tornare a Beccivà, lui suonava. Ha detto che dopo due anni che era a Beccivà, ha iniziato a pensare che aveva rotto fatto in passato, che posso rimediare. Ha detto, guarda, avevo rubato due gitarre nel negozio. Gitarre, in costa. Se l'ha messa nella borsa, ha fatto una roba, non c'erano controlli. È andato in sto negozio, ha fatto finta che l'ha pagata, non so come ha fatto. Comunque è entrato in questo negozio e ha detto, ciao, potrei parlare col proprietario? E la segretaria ha detto, sì, per cosa? Gli ha detto, guarda, devo parlare una roba mamma, personale col proprietario, perché... E dice, guarda, dimmelo, almeno lo dico al proprietario. E lui gli ha detto... Guarda, mi vergogno un po' a dirtelo, però due anni fa io ho rubato qua due chitarre. Gli ha detto il nome della chitarra e un'altra chitarra, gli ha detto i due nomi. E questa qua gli ha detto... E quindi... No, adesso sono tornato per Ciuvà, io voglio venire a ripagarle. Gli ha detto, ma sei fuori? Va bene, fai Ciuvà, vai al Tempio, prega, fai così al Kotel, ma vai a... Perché devi... No, ti prego, puoi dire alla Baalabai se mi può ricevere, però voglio chiedere di scusa e pagare quello che si deve. Questa ha chiamato il proprietario, il proprietario l'ha fatto entrare, gli ha detto, ma sei uno tzaddik, bravi, stiamo a vedere. Ti devi dare un altro. Io non mi ricordo, ma... Gli ha detto, no, ma non mi devi dare niente, per esempio. Gli ha detto, no, no, io voglio dartelo. Ho fatto il calcolo. Ho fatto il calcolo, di quanto era. E questo qua gli ha fatto i tashlumi, ma gli ha dato gli assegni e gli ha dati. Il capo non li voleva neanche, non li voleva. Non li ha presi. Alla fine, no, li ha presi perché per lui era fare il tikundi, quello che ha fatto. Ma magari io che sapessi dove ho fatto, ridavo. C'è scritto che quando non sai a chi ridare, devi fare per la comunità. Di quella B. Di quella B. A Zarsham, questo l'ha fatto. Ha detto che due anni, tre anni dopo, due anni dopo, scusa, che ha finito di pagare, ha detto che era in una midrashah, aveva portato un rav. Arriva questa ragazza qua e gli dice, scusa, ma tu sei quello che aveva, ti chiami così così. Una volta avevi rubato, eri venuto a ridare i soldi di due chitarre nel negozio, così così. E lui la guarda e gli fa, ma come fai a sapere? Mi è scioccato, non lo sapeva nessuno. Cioè, lui il pitomero è venuto lì a portare un rave e questa qua lo blocca e gli dice, ma tu non hai preso... Ah, non era quella che l'aveva... No, così gli dice, no, era in una midrashah di ragazze religiose, quindi... Ah, sì. E questa qua lo guarda e gli fa... E lui la guarda e fa, sì, ma come fai a saperlo? E gli ha detto, guarda, non so se ti ricordi, ma io ero la segretaria. Ah, era lei. Io dopo che tu sei andato via ho detto, cioè, è impossibile che la Torah possa cambiare così una persona. Cioè, se la Torah può cambiare così una persona vuol dire che c'è qualcosa. Ha iniziato a studiare, è tornata a Becciuvà. Da quello che ha fatto lui, da questo che ha ridato le due chitarre. Uno che da noi diceva, ha ridato le chitarre e questa è tornata a Becciuvà. Te lo ho dato. No, 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 lui era già sposato, è sposato con un'altra. No, adesso non facciamo la storia. No, no, no. Ma sì, ma sì, dai. Mettiamo, eh, si sono sposati. No, no, no. Hanno otto figli e uno suona la chitarra con Ramazzotti. Non lo so, il Mettiamo. Ha ricoperto il negozio di chitarra. No, no, no. Ho ricoperto il negozio di chitarra. Ma io lo chiedo, magari non lo so. In questi anni che non ho perso di vista, non so cosa succede. No, ma ho sempre. Però per dirti, a te o se, o se ci va, o se, puoi illuminare persone che non hai neanche idea. Io racconto sempre, come si dice, si può dire, perché lo sa anche lui che io lo dico sempre, la famiglia Giurno che vivono qua. Io, come si dice, mia madre, lui il papà dei Giurno, Vicky, era amico di mia madre. E ogni volta mia madre mi diceva, quando ero piccolo, mi diceva, tu hai gli occhi di un mio amico, caro amico, si chiama Vicky Giurno. Io ero giovane. Diceva, mamma dai, non vuole. Sì, che lui comunque usciva, faceva casini, serate, vedi. Però poi a 25, 26 anni è tornato a Becivà. Mia madre me lo diceva sempre, vedi, sempre. Diceva, ma che mamma, torna a Becivà, vedi. Mi piacciono le donne, droghe, casini, figure. Ah, ma da 25 anni, bule, ho iniziato a tornare a Becivà. Ho 26 anni, bule. Alla fine poi sono arrivato qua, una volta avevamo fatto Shabbat a Tel Aviv, noi c'erano due Clementi, uno Clemente, uno francese, uno italiano. Allora gli ho detto, come ti chiami tu Clemente? Ho detto, ah, l'altro anche Clemente ha detto, come ti chiami, il cognome fa Giurno, fa? Ah, lo conosci? Vicky, fa il mio padre, gli ho raccontato la storia, aveva le lacrime agli occhi. Poi, Baruch Hashem, Clem è anche tornato a Becivà, Rakhavim, Zaddik, Gadol. Poi, Zahiti, di conoscere anche Vicky, adoro, veniva a Yeshiva, adesso io non vado più a Yeshiva. Quando entrava a Vicky, viene a studiare una volta a settimana a Nettivotolam. Chiedevo, quando entra io mi alzo. Fa dai, Gagliani, smettila. Corbi, scuterà, corbi, scuterà. Beh, davvero, veramente. Mamma, mia madre, a zio dico sempre, guarda cosa succede, una persona può tornare a Becivà e può far tornare a Becivà la generazione dopo un'altra persona. Questo è tornato a Becivà, ha influito, ha influenzato mia madre, che si ricorda per anni e mi diceva, guarda che io ho chiesto a Vicky, ma come fai a sposarti con una donna religiosa, vuol dire senza star con lei tre anni. e lui gli ha detto, Adele ci si sposa col cervello e non con le farfalline. E mia madre se l'ha ricordata per anni, mi diceva questa cosa qua. Non ti si sposa con le farfalline, si sposa col cervello, devi sapere cosa... Mamma, e mi è stata tramandata questa roba qua, quindi... Non sai cosa succede? Fai ciupare una roba, magari questa, al figlio gli racconta una cosa... C'è quello... Mamma, c'è... C'è il Hanukkah, c'è mamma, c'è quello di aggiungere, aggiungere e aggiungere nella guerra, perché abbiamo la forza di combattere questa guerra qua con le chokhmot chizonyot, con le intelligenze fuori, che ti vengono, ti fanno tutti i pilpulini, vai così, così... Gli ebrei, Baruch Hashem, gli piace l'intelligenza. Però gli piacciono anche le tavote di questo mondo. Quindi cosa fa la cultura greca? Ti dice, guarda, ti do un'intelligenza, almeno ti faccio l'ok che puoi andare a fare quello che vuoi. Ma come puoi mangiare, quello che vuoi. Tutti noi veniamo da là, tutti noi ci siamo caduti dentro. La forza per combattere questa roba qua viene da Hanukkah. Hanukkah, ma Masha... Il rabbinachma dice che sei ora e metto. Come fai? C'è scritto in... Questo punto è basta perché... Masha? Deh, salvafezzi. Eh? Deh, salvafezzi. Ad esempio, il rabbinachma, il rabbinachma, il rabbinachma, il rabbinachma, c'è scritto in telim, shlach orecha veamitecha. Cosa vuol dire? Davide Avedere che dice, mandami la tua luce e la tua verità. Cosa vuol dire? Che la luce è verità. Ma se la luce di Hanukkah è emet. Il momento che noi dobbiamo... Che scendiamo qua giù, se dobbiamo dire... Le galotte ta emet. Oggi abbiamo visto... Stamattina, il rabbinachma dice che devi le galotte ta emet. Voglio scoprire la verità. Qual è la verità? C'è una storia di rabbinachma che magari studieremo più avanti. Che parla che c'è... Ben melech ve ben shifrashit khalfu. Cosa vuol dire? Uno che era il figlio del re e l'altro il figlio della schiava. E una ostetrica li ha cambiati. E tutta la storia parla che... Che è impossibile. Questa storia qua è tutta la storia che poi il figlio del re è in guerra. Sei veramente il figlio del re. Fin quando poi finisce bene. E diventa veramente re. Val Kola Inyan, dice Rabbe, no? Dice che la vera verità è scoprire che sei figlio del re, non figlio della schiava. Se è Kola Emet. Perché lo vedi anche da quello che diciamo nella tefilà. Dopo Emet ve yatsive, n'akome, k'ambe, shah, n'akome. Emet mi mitzraim. Dice l'ultimo Emet. Sono otto Emet che corrispondono ai giorni di Hanukkah, la luce di Hanukkah. Quegli otto Emet che dice, otto volte dici Emet nella tefilà. Tra vai yatsive. Vuol dire che fai scoprire la verità. E l'ultimo Emet mi mitzraim galtano. Vuol dire Emet la verità che mi hai tirato fuori dall'Egitto. Giusto? E quello è Zekola Inyan. La fine di tutti gli Emet ti porta a dire che la verità che mi hai tirato fuori dall'Egitto. Cosa vuol dire? Che ero schiavo, mi sentivo schiavo. E cosa mi hai fatto? Figlio del Melech, Malchea, Melachi. Sono figlio del re dei re. Zekola Inyan. Perché abbiamo detto, la tua luce è la verità. Qual è la verità? Saper che sei figlio del re e non sei il figlio della Shifra. Zekola Inyan. Che non sei figlio, il mondo ti viene a dire, ah, non vale niente. Sei solo un altro, un altro pedino. No, sono figlio del re. Quando sai che sei il figlio del re, puoi fare tutto. Sai che c'è lui. Provi a fare una roba, non funziona. Vuol dire che il re non vuole che funziona così. Vuole che lo fai in un altro modo. Vai, subito, mi sposto. Vai in un motorino, ti si ferra il motorino. Ah, l'appoggio lì, vado a piedi. Ah, vuoi che vado a piedi. Mio Dèa, cosa vuoi che facci? Magari devo trovare un milione di dollari per terra. O magari una persona mi deve vedere. A Zekola Inyan è portare la verità. A Zekola Inyan c'è il Hanukkah. Quindi cosa ti viene a dire? Che tutto quello che ci dicono loro, che sono i chokmot chizonyot, per collegarlo a quello che abbiamo detto prima. Le intelligenze quelle esterne. Oh, lo sport è la bellezza. Voglio essere bello, voglio essere perfetto. È tutto Shekher. È la falsità. E quindi, come mai Hanukkah è così forte? Perché è la guerra tra la verità e il Shekher. Ha vinto Baruch Hashem la verità. Pochi, come dicevamo sempre, basta poco e fai tanto. E tutto viene dal Messirut Nefesh. Cosa vuol dire Messirut Nefesh? Che hanno fatto i Chachamim. I Kohanim hanno fatto Messirut Nefesh. E anche noi da qua, apprendiamo dalla verità, apprendiamo la forza di fare Messirut Nefesh. Ultima parentesi, cos'è Messirut Nefesh? Che lo sentiamo sempre parlare, vuol dire, uno che dà la sua anima. Messirut Nefesh, come scrivere, dalla Tania, anche bisogna studiare Tania, adesso ne ho iniziato tutti dal capitolo Aleph. Chi riesce di studiare Tania? Ma non c'è, ma c'è il Tania in italiano. C'è il Tania in italiano, l'hanno fatto? Bisogna chiedere chi ce l'ha. C'è troppo. Ah, se ce l'hai, metto me. Se hai modo di farvelo comprare, più che... Non so dove si... Vecchia. Questa è la magione che hanno messo? Ah, è il 67. Ma è bellissimo. Prendilo da lui, non fai le cose. Divide i parati, ti devo aprire. Vedi, e poi glielo ridai. Ma non è una magione che abbiamo l'anima a Behemì, riprende dalla Tania. Abbiamo un'anima animale, si chiama Nefesh Behemì. Nefesh Behemì vuol dire un'anima animale. Cosa succede? Cosa vuol dire l'insore Tanefesh? L'insore Tanefesh vuol dire dare la tua anima animale. Ok? Vuol dire dare la tua anima animale. Io adesso voglio mangiare le cotolette alla milanese. Lascio la cotoletta. La mia anima... Io sono abituato a mangiare quattro pizza al giorno. Ok? Mi... Come diceva, una volta eravamo freddo, diceva dei ghilguli, ma ancora prima mangiavo quattro pizza al giorno. Ok? O mi dovevo bere il mio caffè corretto, il mio quattro caffè borbone al giorno. No, facciamo pubblicità. Eh, non ne bere quattro caffè borbone. Benvenuti e cinque. Stam, stam. In Israele, in Italia non lo bevete, ragazzi. Borbone solo in Israele. In Italia ordinatelo da qui. Ken, ordinatelo da qua, costa quattro volte di più. Cacher. Avala Yeshinyan. Avala Kolenyan. Che una persona dice, ah, io ero abituato a mangiare cinque schnitzel al giorno, quattro pizza al giorno. Eh, non riesco a farlo. Harshaq, devo dire che la sua anima animale è legata a questa roba qua. Eh, io non riesco a non guardare una donna se passa di qua, mezza nuda. Eh, non ce la faccio. Beh, da noi è normale. Tutti così pensano, ok? A qualcosa ti dice, la luce più grande, abbiamo detto, di Hanukah, viene dall'imsore tanefesh. Vuol dire dare la nefesh. Cosa vuol dire? Dare la tua anima animale. Cosa vuol dire? Mangio quattro pizze? Oggi le mangio tre e otto fette. Non so quante fette ci sono in una pizza. Ci sono dieci, giusto? Oggi. Ah, otto. Allora fai, mangio tre fette di pizze, tre pizze e sette fette. Giusto? Ne lascio una. Non fare mai messirut nefesh totale. Uno dice, ah, mangiavo quattro pizze e non le mangio più. Perché maccarà, il giorno dopo, le serate aspetta l'anno e dice, ah, non le mangi più. Senti un po' l'odore. Ah, ma ti ritrovi, ti ne mangi quindici. Nacón? Quindi ogni volta quando si fa messirut nefesh, vuol dire cercare di abbandonare poco. Diciamo sempre che poco è tanto. Una luce piccola può illuminare tutto il mondo. Ogni volta poco. Poco lascio la mia anima animale. Cosa vuol dire? Poco animo seretanefe. Poco, ah, quello mi parla male di una persona. Poco... Perché se inizia, ah, non faccio niente, pitom, cadi, ascemi, asorti, aspetta dietro l'angolo e fai tutto. Quindi ogni volta, come torniamo a quello che dicevamo prima, poco è tanto. Zenica ha messirut nefesh. Da messirut nefesh hanno tirato fuori l'ultima delle mitzvot. Perché ha detto che i koanim scendevano in guerra, erano pronti a morire. Non è che venivano e dicevano, ah, andiamo là, vinciamo. No, erano pronti a morire. Adesso ribonoscio l'anno. Vado giù, mi ammazzo contro i greci. Combatti che almeno ne uccido il più possibile, ma andavano a morire. Bisogna andare veramente a messirut nefesh, non fare i calcoli e non fare le robe grandi. Fare quello che puoi poco alla volta, perché questo è l'unico modo per combattere lo Yetzirah, poco alla volta. C'è l'eschevo, esatashè. Le hara benun aghila. Le hara benun aghila, 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 le hara benun aghila,